Nuova tegola sui dipendenti della Fondazione Giovanni Paolo II. Dopo l'escamotage dei contratti di solidarietà che hanno tamponato i licenziamenti nel 2014, il problema si ripresenta. La decurtazione del 15% sugli stipendi è riuscita a salvare le posizioni lavorative, nonostante le grosse difficoltà economiche di chi si è vista ridotta la mensilità. Era però, secondo gli addetti ai lavori, l'unica via percorribile. Oggi, secondo alcune indiscrezioni, sembra che il problema si sia ripresentato. La Fondazione ancora ha i conti in rosso e vorrebbe proporre di nuovo i contratti di solidarietà per evitare altrimenti i licenziamenti necessari. Gli eventuali contratti, se accettati con lo stesso ITER, referendum, approvazione da parte dei sindacati, dovrebbero partire da gennaio 2016. I tempi però sono stretti e dunque bisogna affrettare le procedure. C'è però chi comincia a contestare questo modus operandi accusando di leggerezza l'amministrazione. È troppo semplice prendere decisioni, così riferiscono, sulla pelle dei lavoratori che già hanno grosse difficoltà ad andare avanti. Occorrono strategie imprenditoriali diverse. Occorre mettere in conto il rischio di imprese e non riversare sempre sui lavoratori le problematiche economiche.